si chiama Abel Raggio, che è un pittore di pittura automatica surrealista e studioso di pittura automatica, cioè quella pittura che va al di là della tecnica artistica di per sé, ma punta molto sulla spontaneità del gesto. Allora si misero a studiare questa metodologia di disegno onirico proprio a partire dall'idea che nella pittura automatica, quindi spontanea, potesse celarsi un mondo simbolico, cioè potesse diventare un metodo proiettivo della personalità del mondo interiore del disegnatore in qualche modo. Quindi strutturarono questo processo, che adesso vi vado a raccontare, in pratica c'è sempre un momento iniziale di rilassamento che appunto serve a connetterci con quella parte nostra più creativa, con quella parte del cervello più creativa, più intuitiva, diciamo. E poi il facilitatore ha preparato per i partecipanti una consegna. Questa consegna tendenzialmente è una consegna che è orientata a far emergere un certo tipo di simboli, in qualche modo. Quindi a questo punto i partecipanti disegnano, solitamente si disegna con pastelli a cera, ma noi abbiamo usato un pochino qualunque materiale fosse disponibile a casa. Dopodiché, dopo questa fase di disegno su un foglio a quattro, a tre, inizia proprio una fase di racconto da parte dei partecipanti di come si sono sentiti e cosa hanno disegnato, e poi una parte di riflessione dove il facilitatore cerca di, non interpretare, ma facilitare l'emergere di simboli e quale può essere la relazione tra i simboli che appaiono e come appaiono sul foglio di carta rispetto al mondo interiore di quella persona, alle dinamiche interiore di quella persona. E in questo modo, attraverso il linguaggio simbolico, che è il linguaggio del nostro inconscio, diciamo della nostra mente inconscia, riusciamo a metterci in dialogo, a creare un dialogo con noi stessi, che non sia appunto il dialogo semplicemente razionale che noi abbiamo ogni giorno, ma proprio fatto con quel linguaggio che il nostro mondo interiore usa, cioè il linguaggio dei simboli. Bellissimo. Infatti devo dirti che, a parte avere, cioè è qualcosa che poi, è un'attività che poi lascia dentro di te come fosse un'energia che continua a muoversi dentro e ti modifica, no? Ti porta, a me ha portato questo, ha portato intanto a collegare i miei puntini e poi, visto anche la particolarità del mio disegno, poi lo svelerò, magari farò una foto, tanto guarda ormai non ho segreti, va bene, perché ha veramente portato fuori alcuni concetti che magari erano dentro, alcune cose inespresse, proprio come hai detto tu, che erano dentro di me e che mi hanno fatto però, nell'ultima parte, grazie alle tue riflessioni, alla tua guida, anche abbellire, diciamo così in maniera un po' naif, quelle cose che magari per me erano invece un po' delle paure, delle inquietudini, no? Quindi ecco la formula, cioè secondo me la formula che non è magica, ma è qualcosa veramente di pervasivo, che ci aiuta a riflettere meglio su di noi, è proprio quello di trasformare, cioè trasformare, questo è il messaggio che mi sono portata a casa, trasformare una paura come quella che magari si è vissuta o si vive ancora in questo momento in un'energia creativa di qualcosa d'altro, di qualcosa di più e quindi questo è bellissimo. Senti, come possiamo dare un'indicazione a chi ci ascolta su dove trovarti e anche magari dove fare qualche ricerca? Io poi di solito posto il link del nostro audio anche sui vari canali, su LinkedIn in particolare, su Facebook e su Telegram, proprio dando delle indicazioni su dove trovare, come mettersi in contatto con gli ospiti di News per Freelance, ma anche come fare qualche ricerca, ad esempio, per capire meglio di che cosa abbiamo parlato. Sì, allora, probabilmente la cosa migliore sarebbe tramite il mio profilo LinkedIn, altrimenti c'è il sito web della mia attività, si chiama laborintus.org, però sicuramente tramite la pagina LinkedIn ci sono tutti gli aggiornamenti che arrivano in tempo reale. Sul disegno onirico è appunto un'attività molto attiva in Italia, grazie all'accademia che anch'io ho frequentato e che sto frequentando, perché è un'accademia che dura due anni, è un percorso sia terapeutico che professionalizzante, di Torino, si chiama Accademia del disegno onirico Bermolen dal Porto di Torino, con queste otto fantastiche donne terapeute che stanno portando avanti il messaggio e la metodologia di questa coppia argentina. Senti, è necessario avere delle, cioè per entrare, dei requisiti particolari, bisogna essere laureati in psicologia oppure invece... No, no, no. Loro vogliono tenerlo il più aperto possibile. Io stesso non ho una laurea in psicologia, sono appassionato di psicologia, ho studiato psicologia, ma sono laureato in filosofia. Ok. E il mio approccio al disegno onirico appunto non è un approccio psicologico. Sì. Quello che vorrei dire a tutti è che intanto in questo momento di crisi, disegnate comunque, anche senza pensare alla tecnica, non è un discorso di tecnica o di opera d'arte, disegnate perché il disegno è già uno strumento terapeutico. Il disegno onirico poi permette a vari livelli di essere esplorato, per cui il livello più profondo è quello che si fa con una terapeuta, con uno psicologo, con un pedagogista clinico, ma ad esempio io quello che faccio è un coaching profondo fondamentalmente. Per cui in quel caso si vanno a esplorare altre tematiche che non sono quelle della terapia. Si vanno a esplorare appunto il nostro mondo interiore attuale, che dinamiche sta avendo, soprattutto ho persone che sono in fase di transizione e di cambiamento, per cui è interessante capire dove la mia pancia sta già andando in quel momento e che tipo di dialogo c'è tra la mia pancia e la mia testa e provare ad armonizzare questo dialogo, insomma. Guarda, bellissimo, sei stato davvero prezioso Emanuele, per cui sono felice di averti avuto qua, felice di aver avuto questo dialogo proprio con te, perché credo che sia prezioso anche per i nostri freelance. Allora, tu già hai lanciato un messaggio dicendo disegnate, ma se tu dovessi calare questo disegnate per i freelance che ci seguono, che messaggio finale daresti? Intendi qualcosa che possono fare... Sì, qualcosa che è proprio utile per i freelance in particolare, visto che sei anche freelance conosci quali possono essere le nostre dinamiche interiori. Allora mi viene da dire, come per andare più verticali ancora sul disegnare, c'è un'attività, una cosa legata a questo, legata al disegno onirico, che possono fare adesso, subito, quando hanno finito di ascoltarci? Ma quello che vorrei dire, sì, provare a fare un disegno, provare a fare un disegno della situazione attuale, e provare a vedere appunto che cosa esce fuori, che tipo di simboli escono fuori, provare a dialogare con il disegno. Quello che vorrei chiedere appunto, quello che potrei chiedere è, oltre al disegno, provate a scrivere poi una storia, dietro al foglio, provate a scrivere una storia di quel disegno. E quella può essere una cosa interessante. Oppure, forse un'ultima cosa, se posso, se ho un'ultimo... Certo, certo! Un'altra cosa interessante per freelancer, ecco, questa è una cosa interessante che può essere più per freelancer, è provare a scrivere una propria presentazione, vera, chiara, classica, quella che loro fanno, quella che noi facciamo, che ho fatto anche oggi, no? Quella vera, quella... Di poche righe, quella che tutti noi ci siamo imparati a memoria e che facciamo quando ce la chiedono. Chi sei? Sono questo, faccio questo. Sì. E poi scrivere sotto una presentazione bugiarda. Bellissimo! Cioè, immaginate di essere in un viaggio in giro per il mondo e incontrare una persona che vedrete soltanto per quella sera e non vedrete mai più, per cui potete permettervi di essere chiunque. È il come se. La presentazione bugiarda di voi stessi. E la mia, appunto, richiesta finale è, una volta che avete scritto questo, domandatevi quale delle due è la presentazione bugiarda. Quale delle due è più bugiarda e quale è vera. Molto spesso in quella bugiarda troviamo molti più elementi di noi, della nostra aspirazione e vocazione, che non in quella vera. Quindi questo può essere un esercizio interessante. Bellissimo! Inutile dire che lo farò appena, appena mi calmo, farò questa cosa. Anche perché effettivamente nella presentazione bugiarda, se è vero che uno può sognare, allora dici come se volessi, non so, la cosa più straordinaria che ti puoi immaginare, di essere su un palco a comunicare chissà quale cosa. Quindi le cose più in grande, no? Cioè sognare davvero in grande e osare, osare. Io dico sempre, anche in questa situazione, in questo momento, per noi è importante avere un'etica, perché a questo tengo molto, perché abbiamo bisogno l'uno dell'altro, proprio perché siamo tutti interconnessi e quindi si fa del bene a catena. E se si fa del bene, quindi si lavora in un senso etico, si può anche osare, ma osare proprio alla grande. Va bene. Senti, allora Emanuele, allora vi ricordo, così poi faccio salutare Emanuele, vi ricordo Emanuele Ciccarelli, vi manderò, vi lascio poi tutti i suoi contatti, il contatto di LinkedIn in particolare, anche il sito e magari qualche riferimento che andrò a cercare. Vi ricordo i miei contatti e sono sempre, come dire, curiosa di conoscere le vostre storie, quindi se volete mandarmi con un commento, un'osservazione, fare un'osservazione che poi sicuramente anche Emanuele leggerà nei commenti, ad esempio, di LinkedIn, dove sarà pubblicata anche questa traccia. Io vi ricordo appunto, mi trovate su Twitter come Espi, mi trovate su LinkedIn e anche sul canale Telegram, che porta proprio il mio nome. A te i saluti, Emanuele. Grazie mille, Barbara. Grazie. Grazie a tutti. Spero possa essere utile e non vedo l'ora di vedere più disegni possibili da parte dei freelancers, informazioni. Chiunque voglia più informazioni, mi contatti senza problemi. Anche appunto, chi vuole usarlo in maniera più terapeutica, posso dare informazioni su chi può usarlo in quel modo oppure in maniera più vasta in altri modi, in modo da arrivare a più persone possibile, con uno strumento veramente potente. Potente, davvero. Davvero. Grazie, grazie a te, Emanuele. Sei stato gentilissimo e prezioso. Ci hai dato, insomma, tante idee su cui riflettere e su cui tornare. Perché sarà... È come scendere nella propria camera, no? E avere uno spazio tutto nostro. Prendetevelo quello spazio. Prendetevelo. Va bene. Grazie Emanuele. Grazie infinite. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.